L'accorpamento con l'ANAS non ci sarà. Consegnati i lavori del primo lotto della Pede Montana Fabriano Cerretodesi, comprendente anche lo svincolo di Muccia, è avviato un tavolo tecnico permanente. Sono queste le principali novità emerse dall'Assemblea dei Soci della Quadrilatero che si è tenuta ieri a Roma. Soddisfatto dell'esito, il Presidente della Provincia Pettinari, presente all'incontro in rappresentanza dell'ENTE e della Camera di Commercio di Macerata. Quindi la Quadrilatero continua, ma soprattutto continua nella sua missione, nel suo obiettivo, che sono i progetti, completamente la superstrada, il migliore collegamento di questa arteria con il territorio, penso alla Sansevino-Torentino, penso al modernamento della 78, ma ritornando alla superstrada non si può ritenere assolutamente completata se non la si collega innanzitutto con il capoluogo, con la città di Macerata, con la viabilità ordinaria, penso all'uscita a Civitanova, e la realizzazione dello svincolo di Muccia che fortunatamente è stato realizzato. Sarebbe stato un insopportabile schiaffo nei confronti dell'entroterra, ma immaginarsi oggi senza il collegamento dopo il sisma. Un altro aspetto che non va assolutamente dimenticato riguarda la riparazione, la sistemazione della viabilità ordinaria. Le strade comunali e provinciali che sono state interessate dalla realizzazione dei lavori, in particolare nei territori di Muccia e di Serravalle, sono state molto danneggiate e quindi vanno riparate. Tra le priorità, Pettinari inserisce anche la coerenza dei limiti di velocità nel nuovo tratto di superstrada Civitanova-Foligno. Il tratto Civitanova-Sfercia ha il limite di velocità di 110 km orari. Da Sfercia a Foligno, attualmente, il limite di velocità è di 90 km orari. E quindi dovrà il Ministero farsi carico di questo adegamento. L'ho preannunciato ieri, lo formalizzeremo con una specifica richiesta all'ANAS.